Guardi, le ripeto, noi non abbiamo mai fatto il calcolo dei voti come si contano le galline in un pollaio. A noi interessa che sia rispettata la volontà popolare. D'altronde lo abbiamo anche scritto ieri appunto sul blog, sono stati esposti in maniera chiara le famose dieci risposte. Quelli sono i nostri punti di vista. Non pensiamo a vincere, a perdere. Noi pensiamo soltanto a dare all'Italia un futuro splendido che l'Italia merita. Ultima domanda, che vi aspettate da Renzi a questo punto? Ci aspettiamo una risposta chiara. Noi siamo chiari, trasparenti e cristallini e coerenti. Adesso chiediamo lo stesso.